3 Dicembre 2023, Messaggio di Nostra Signora Regina della Pace. Itabayama, Se. Cari figli, allontanatevi dal peccato e vivete rivolti al Paradiso per il quale unicamente siete stati creati. Vi affretta e questo è il tempo della grazia per voi. Non invitatevi al Tesoro di Dio. Voi siete del Signore e solamente Lui dovete seguire e servire. La vostra anima è preziosa per il Signore. Curate la vostra vita spirituale e non permettete che un fumo del demonio causi cicità spirituale nelle vostre vite. Siate uomini e donne di fede in ogni luogo testimoniate che siete nel mondo, ma non siete del mondo. Vivete nel tempo peggiore del tempo del diluvio ed è giunto il momento del vostro ritorno. Non incrociate le braccia. Quello che dovete fare, non lasciatelo per il domani. Quando sentite il peso della croce, chiamate Gesù. In Lui è la vostra forza. Tempi difficili verranno per i giusti. Pregate per la Chiesa. Ancora vedrete orrori nella casa di Dio. Molti si allontaneranno dalla verità e abbracceranno quello che è falso. Soffro per quello che viene per voi. Pregate, pregate, pregate. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo Verde, rimanete nella pace. Grazie.